Diamo inizio alla presentazione del progetto del Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Vento lasciandoci introdurre dalle parole della canzone Limpiade, cantata dal coro aria estese. Fiume Sacro alla Patria, uno dei teatri principali che vide coinvolti molti degli infiniti dell'onore di centa che erbbero la fortuna di sopravvivere alle battaglie e alle vicissitudini buone e cattive dei successivi cinquant'anni. Il coro aria estese canta il piano. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. L'esercito marciava per raggiungere la trombiera, per farlo con il nemico una maniera. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. Limpiade, monopra, la canzone è un tacito passaggio e i primi fatti del quattro maggio. Grazie a tutti. 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 Per quale motivo, vi domanderete, abbiamo scelto questa data, il 26 aprile. Il 26 aprile è una data storica importante per l'Italia, perché il 26 aprile è il giorno che ricorda il Trattato di Londra. Il Trattato di Londra venne firmato il 26 aprile 1915 e il governo italiano prese accordi con i rappresentanti della triplice intesa per scendere in guerra a fianco della triplice intesa contro gli imperi centrali. Con la promessa di poter ottenere dei cospicui compensi territoriali. Infatti, esattamente dopo un mese, il 24 maggio 1915, l'Italia scese in guerra. Gli anni successivi sono storia che tutti noi conosciamo. Ma la guerra finisce nel 18 e Vittorio Veneto è la città che ricorda la fine della guerra, non soltanto all'Italia intera, ma anche a livello europeo. E' il simbolo della grande guerra e della fine della prima guerra mondiale. E fu questa una guerra importante, una guerra per cui il popolo italiano ha dato un grandissimo tributo in termini di sangue reso. Vi do alcuni numeri solo per pensare e considerare che cosa può essere stata la prima guerra mondiale per l'Italia. Mobilitati in zona di guerra 5 milioni, mobilitati delle industrie belliche 900 mila, caduti 680 mila, feriti 1 milione 50 mila, mutilati e invalidi 675 mila. Possiamo quindi dire che in ogni famiglia, un figlio, un padre, un marito, partirono per il fronte. E l'idea di questo memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto vuole proprio ricordare tutto ciò. Il memoriale deve essere un momento in cui raccogliendo, quasi in un abbraccio, in quel contesto architettonico che è la chiesetta sconsacrata, che ormai fa parte, integrante, del museo della battaglia, così come è stato restaurato. All'interno di quella zona sacra, che è l'abside di San Paoletto, noi abbiamo proprio pensato di collocare i sette libri, qui vediamo il primo, che contengono all'interno i nomi dei Cavalieri di Vittorio Veneto. 14.700 per la provincia di Treviso e sono tutti raccolti qui. Poi arriveranno gli altri a completare questa raccolta, ad unire definitivamente, in questo appunto abbraccio simbolico, all'interno di questo spazio sacro, gli altri soldati. Mi fa piacere in questo contesto ricordare, anche perché qui c'è la figlia, ricordare Enrico Talin, Enrico Talin che dal 1971 fu il presidente nazionale dell'Associazione Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Ordine che prese corpo anche per la volontà stregua di questo personaggio così importante per la nostra città. Ecco quindi che ognuno di noi potrà, sfogliando quelle pagine, ritrovare nomi cari di un padre, di un nonno, di un bisnonno. Io questa emozione l'ho già provata, perché prima ho sfogliato queste pagine e ho trovato il nome di mio nonno, Cavaliere di Vittorio Veneto, che ricordo ancora nel momento in cui era il 68, io ero ancora piccola e non riuscivo probabilmente a capire il senso e il significato di questa onorificenza che adesso mi è ben chiara. Ricordo ancora l'emozione, gli occhi lucidi del nonno, quando l'allora presidente Saravet consegnava a lui l'onorificenza. Questa è un'emozione che ognuno di noi potrà provare sfogliando questi libri che troverà all'interno di questo memoriale. Ecco quindi che per noi il memoriale ha il significato importante della memoria, della gratitudine che non deve mai morire. Grazie. Inizia la presentazione del progetto il direttore onorario del Museo della Battaglia, ingegnere Luigi Marson. Nella parte apsidale della settecentesca chiesa di San Paolo, a fianco della loggia del genetese, ora presento la battaglia di San Paolo. Buongiorno, buongiorno. La battaglia, ora destinata ad esposizioni temporanee di pertinenza del museo, conserva intatto la sacralità del luogo, ove il volume racchiuso dalle superfici curvilinee del catino apsidale, evoca l'assenza di limiti spazio-temporali, immagine di immortalità. Come già stato detto, il primo volume che raccoglie tutti i cavalieri di Vittorio Veneto della provincia di Treviso, per il momento sarà collocato sul piano, sulla mensa d'altare, nella parte apsidale. Quando saranno pronti tutti i libri, sette, quante le province del Veneto, ed uno con i dati statistici, ecco questi libri verranno posti in due bacheche accostate, lasciate aperte in modo che chiunque possa sfogliare i libri, e consultarli. Apposite catenelle blocheranno ciascun libro sul supporto ligno del contenitore. Sul fronte anteriore delle due bacheche accostate, su idea dell'amico Franco, verranno scritte le parole di Nazario Sauro, tratte dalla lettera Testamento al figlio Nino, scritta il 20 maggio del 1915. L'eroe sarebbe stato impiccato con l'accusa di alto tradimento il 10 agosto del 1916, nelle carceri militari di Pola. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre, ma vi viene la patria, che è il plurale di padre. Sul lato sinistro del catino absidale si potrà collocare un pannello verticale, in cui mostrare il medagliere dei cavalieri di Vittorio Vento. Nel ripiano superiore, prima il diploma di conferimento in bianco, cioè anonimo, quindi le diverse medaglie in fronte e retro, ossia la croce del cavaliere, la croce in oro in ricordo del cinquantennale, la croce al merito, la medaglia nel bronzo di Vico e le medaglie intervelleate, ovviamente quelle che sarà possibile reperire. Ve ne sono anche di nazioni lontane, coniate in pochi esemplari, ad esempio il Brasile e il Sierma, e la medaglia in memoria alla famiglia. Nel registro inferiore si potranno collocare tutte le medaglie specialistiche, riferite cioè alle diverse armate. Dalla parte opposta, verso l'oliente, un pannello con il tricolore italiano. Accanto una scritta da convenire con le associazioni combattentistiche, in modo da avere un collegamento simbolico con il sacrario delle pandiere a Serravalle. Dall'altro lato, la croce al merito, conferita alla città di Vittorio con la sua motivazione. Ed una considerazione finale. La raccolta di mio nonno, cioè la collezione che sta all'origine del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, trovò motivazione e vigore dal suo desiderio che il sacrificio estremo, ma anche quotidiano di tanti umili sconosciuti eroi, venisse trasmesso alle future generazioni. Le sofferenze di tanti giovani suoi commilitoni, sofferenze da lui provate e vissute fino in fondo in prima persona, non dovevano cadere nell'oblio. E quante le testimonianze, spesso commuventi, possiamo scoprire visitando gli spazi del Museo, soprattutto la Sala degli Eroi, qui a fianco all'ultimo piano. Io continuo a chiamarla così, con questo nome che le diede mio nonno. Memorie e testimonianze che devono restare vive per trasmettere quei valori che sono fondamento della nostra humanitas. Il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto diviene naturale continuazione di tutto ciò. Rinovella il ricordo e lo estende a tutti, perché tutti furono solo degni di rispetto. Grazie. Proserve nella presentazione del progetto il ricercatore e autore dei libri Sanco Giuseppe Gombatto. Grazie. Permettetemi innanzitutto di porgere dei ringraziamenti. Dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito e contribuiranno alla nascita di questo memoriale. Innanzitutto a chi ci ha creduto per primi e sono qui seduti a fianco a me. Uno è l'assessore della cultura Antonella Uriana, l'altro è il direttore onorario del museo Marçon Luigi. Ma anche un ringraziamento a chi ha contribuito finanziariamente e contribuirà finanziariamente alla realizzazione del memoriale. E sono l'istituto per la storia del risorgimento italiano, il comitato di Treviso e il circolo vittoriese di ricerca storica, al quale io appartengo e ringrazio in particolare la Presidente e la dottoressa Loredana Imperio. La ricerca non è stata facile e chi mi ha permesso di recuperare i dati è stato il Tenente Colonnello Carlo Venditti, che è capo della quinta sezione del Servizio Ricompense e Onorificenze del personale militare di Roma. Fra le altre cose mi va di ringraziare anche per la riuscita della serata il coro alle estesi, in particolare il mio gancio del coro che è il Vicepresidente Ross Antonio, e chi ha creduto subito e ha messo a disposizione anche degli spazi per la realizzazione fin dall'inizio. Nel Sacrario delle Bandiere di Serravalle vi sono già esposti i nomi dei Cavalieri di Vittorio Veneto di Vittorio Veneto, quello che io ho chiamato dall'inizio scherzosamente i Cavalieri di Vittorio Veneto alla seconda, e in particolare il Presidente delle Associazioni Combattentistiche, Ludovico Domini. Detto questo, immagino che fra di voi ci sia qualcuno che si sta chiedendo quale turbe psichica possa colpire una persona all'apparenza normale per andare a caccia di oltre 87.000 nomi, metterli assieme e creare dei libri, o perlomeno quale ne sia la motivazione. La motivazione va ricercata, risale a circa un anno fa, quando avemmo l'onore e il piacere di avere ospite sia qui sia alla scuola elementare, scusate, a motivo dell'età, dico elementare ma sono primarie adesso, alla scuola primaria Nazario Sauro di San Giacomo di Veglio, abbiamo ospite l'ammiraglio Romano Sauro, nipote dell'eroe Nazario Sauro. In quell'occasione un bambino che è qui presente, Emanuele Piotusa, aveva una voglia incredibile di mostrare il diploma di cavaliere del proprio nonno, anzi del proprio bisnonno, partenopeo fra l'altro, che combatte qui in zona e ferito, fu curato, guarda caso, proprio nell'ospedale di Serravalle. E questo mi ha portato, mi ha dato l'ispirazione, perché mi ha fatto notare due cose. La prima, che siamo già alla generazione dei bisnonni, quella generazione che genealogicamente ormai inizia a entrare nel dimenticatoio, perché quanti di noi conoscono effettivamente chi erano i bisnonni. La seconda è inevitabile, l'amore dimostrato. Da qui la necessità e la volontà di creare un luogo per la memoria di queste generazioni che tanto hanno dato e che tanto ci hanno dato. Devo dire che considero un onore il fatto che questo atto d'amore sia stato fatto proprio dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che ovviamente con la realizzazione di questo memoriale, come diceva giustamente il Presidente Onorari, chiude anche con logica il percorso museale. Ma andiamo a vedere nello specifico chi erano i cavalieri. Allora, i cavalieri fu istituito una legge per esprimere la gratitudine della nazione a quanti avevano combattuto nella guerra 14-18 e nelle guerre precedenti. Questo specifica maggiormente, qualora ve ne fosse la necessità, che la prima guerra mondiale è a tutti gli effetti l'ultima guerra del Risorgimento. Allora, con la legge 18 marzo del 68, numero 263, viene istituito l'ordine di cavalieri di Vittorio Veneto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile e vigente dal 17 aprile del 68. È una legge che ha sette articoli molto rapidi, molto veloci. Nel primo articolo si dice che per servizio militare di sei mesi nella guerra 14-18 oppure nelle guerre precedenti viene concessa una medaglia ricordo in oro. La presentazione della domanda deve essere fatta tramite il Comune di Residenza al Ministero della Difesa, quindi non parliamo ancora di cavalierato. Il secondo articolo è l'articolo che istituisce l'ordine, infatti viene istituito l'ordine di Vittorio Veneto come un'unica classe, quella di cavaliere, che viene assegnato a tutti i combattenti che nel 14-18 o in guerre precedenti sono stati decorati dalla croce al merito di guerra, oppure ne avevano il diritto e possono dimostrare che ne avevano il diritto. E si dice nel secondo articolo che le insegne sono una croce metallica come un nastrino. L'articolo 3 definisce che il capo dell'ordine è il Presidente della Repubblica, che l'ordine è retto da un consiglio dove vi è un Presidente che è un generale di corpo d'armata e quattro membri ufficiali generali o ammiraglio, più il Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti. Tutti questi vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. L'articolo 4 indica invece che l'onoreficenza viene concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa e che gli interessati devono presentare domanda all'ordine tramite il Comune di Residenza. Quindi gli elenchi che noi abbiamo non sono degli elenchi in base al Comune di Nascita, ma in base al Comune di Residenza all'atto della richiesta dell'onoreficenza. L'articolo 5 invece prevede la concessione di un assegno vitalizio non reversibile, nella realtà reversibile per un anno alla vedova oppure ai figli, di 60.000 lire, delle vecchie lire, a quanti hanno un reddito inferiore al minimo imponibile. Queste due rate semestrari a decorrere dal 1 gennaio del 68 e venivano date il 30 giugno e il 20 dicembre. Cosa particolare, l'assegno viene concesso anche a tutti gli ex combattenti dell'esercito austro-ungarico divenuti italiani per annessione. L'articolo 6 descrive le procedure per la domanda per la concessione dell'assegno, mentre l'articolo 7 ne definisce la copertura finanziaria, con una riduzione di un fondo speciale. Per il 68 la copertura finanziaria viene considerata pari a 15 miliardi delle vecchie lire. Ecco, è firmata dal presidente Saragat e controfirmata da Moro, Tremelloni, Pieraccini e Colombo. Va detto che questa legge fu abrogata nel 2010 con una legge particolare, ma come succede spesso in Italia, un'ulteriore modificazione della legge, cioè nel 2012, ha ripristinato a tutti gli effetti, mantenendolo formalmente in vita e in vigore l'ordine. È quindi un ordine tuttora vivo, nonostante non sussistano gli elementi perché possa continuare a funzionare. È un cosiddetto ordine quiescente. Ma vediamo nel particolare le medaglie. Allora, qui abbiamo sulla destra il diploma e c'è da notare, sul lato destro figura il maniero dell'ordine che è il castello del Buon Consiglio di Trento, mentre sul lato sinistro abbiamo la chiesa d'onore dell'ordine che è la cattedrale di San Giusto di Trieste. Qui vedete la croce del Cavaliere che è una croce greca piena, incisa, caricata da uno scodetto a forma di stelle a cinque punte. La croce era sorretta, diciamo, da un nastrino con i colori della bandiera italiana e con una riga azzurra. Questa invece è la medaglia d'oro che commemora il cinquantesimo anniversario della vittoria. Anche questa corredata da un nastrino con i colori della bandiera italiana. Tutti i cavalieri o gran parte di chi ha combattuto nella Prima Guerra Mondiale aveva una specie di medagliere che io ho definito più volte povero, fra virgolette, perché è comune a tutti quanti e comprendeva queste medaglie che voi vedete qui. La prima è una particolarità, veniva dato per le fatiche di guerra questo piccolo nastrino che fu sostituito più avanti dalla medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca del 1518. Questa medaglia ha una particolarità che è anche stampata nel retro della medaglia, è fusa nel bronzo nemico perché doveva essere fusa col bronzo delle artiglierie tolte al nemico. Questa veniva concessa, è stata concessa sostanzialmente a tutti anche con un diploma. Qui vedete la croce al merito, la particolarità è il nastrino che la distingue da quella al valore, che il nastrino è a righe azzurre e bianche. Qui abbiamo invece la medaglia dell'Unità d'Italia 48-18, a maggior prova che la Prima Guerra Mondiale viene considerata come l'ultima guerra del Risorgimento, e questa è la medaglia interalleata, quella che fu istituita come medaglia commemorativa comune da concedersi a tutti i combattenti delle nazioni alleate ed associate. Praticamente c'è un conio per ogni nazione e il nastrino invece rimaneva uguale. Per curiosità dirò che vi leggo le nazioni alleate e associate che sono il Bel, oltre all'Italia ovviamente, il Belgio, il Brasile, Cuba, Cecoslovacchia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Giappone, Polonia, Portogallo, Romania, Siam, Sudafrica, Stati Uniti d'America. Bisogna dire che oltre a queste medaglie vi sono ovviamente anche delle medaglie ad personam, che possono essere state le medaglie al valore militare, oppure quelle concesse alle madri dei caduti in guerra o agli orfani. Vi erano poi le medaglie, quella gran parte di medaglie non ufficiali, cioè coniate da battaglioni o dalle varie armate, io ho un ricordo particolare di quelle del nonno che faceva parte della quarta armata, l'armata del grappa, anche lui cavaliere, e molto bella, in una di queste è ritratta la madonnina del grappa. Poi c'erano le medaglie celebrative, come quella del cinquantesimo per capirci, ma ce ne sono del decennale, ventennale, trentennale, ogni dieci anni praticamente ne veniva sfornata una. Andiamo adesso nel particolare del libro che oggi presentiamo, qui vediamo la copertina, e entriamo nel libro e vediamo la prima pagina interna, cioè il titolo, che è Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, elenco nominativo, Regione Veneto, provincia Treviso e il range di comuni presenti nel libro. Poi c'è il ringraziamento alla concessione dei dati, qui vedete il nome dell'ufficio che ha concesso i dati, ve lo leggo perché come tutti i militari hanno degli uffici molto lunghi e complessi, il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, terzo reparto, servizio, ricompense e onorificenze, quinta sezione Ordine di Vittorio Veneto, che è esistente tuttora, come dicevamo prima, e il ringraziamento al tenente colonnello Carlo Venditti e il ringraziamento a quanti hanno contribuito, cioè all'Istituto per la storia del risorgimento italiano al Comitato di Treviso e al Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Sotto vedete una piccola tabella che ho voluto mettere per farvi capire la divisione per provincia della regione Veneto per numero di comuni e per numero di cavalieri. Belluno, 69 comuni, ci sono 5.699 cavalieri, a Padova 104 comuni 15.598, Rovigo 50 comuni 6.570, Treviso 95 comuni 14.666, che è questo libro qui che abbiamo sul tavolo, Venezia 44 comuni 13.623, Verona 98 comuni 16.924, Vicenza 121 comuni 13.869, per un totale di 581 comuni e di 86.929 cavalieri circa. Dico circa perché, come menzionava prima il direttore onorario, manca l'ottavo libro che sarà il libro statistico, perché ci sono delle concessioni che a motivo del cognome, a motivo della via probabilmente sbagliata all'inizio, sono state fatte due volte o possono essere state fatte un paio di volte, per cui i numeri qui espressi non sono precisi, verranno precisi nel momento in cui ci sarà l'aspetto statistico. Nelle pagine successiva c'è l'elenco dei comuni della provincia con il numero di cavaliere comune per comune. Poi si trova per comune l'elenco alfabetico del cognome e nome del cavaliere, la data di nascita, l'indirizzo all'atto della richiesta dell'onoreficenza e la data di decreto dell'onoreficenza stessa. Noi qui oggi ci siamo assunti la responsabilità della memoria di questi uomini che sono nostri nonni o nostri bisnonni che volenti o nolenti hanno comunque fatto il loro dovere e sono rimasti fedeli nei confronti della patria quella patria che come abbiamo sentito prima è paragonata al proprio padre. Io vorrei concludere con una frase che racchiude il senso di tutto ciò che è di José de Sousa Saramago che è uno scrittore giornalista drammaturgo poeta e critico letterario portoghese nonché premio Nobel per la letteratura del 98 che così recita noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere grazie prima di procedere con il programma se qualcuno vuole fare qualche domanda possiamo riservare qualche minuto penso sono già esposti nel Sacrario delle Bandiere a Saravalle i Labari dei comuni che ci sono pervenuti sono esposti lì c'è una bella esposizione che vale la pena di essere vista sicuramente è una bella domanda ed è una bella sfida nel senso che sicuramente oggi è stato fatto uno sforzo notevole per riuscire a reperire intanto quelli del Veneto che sono 87 mila per cui è enorme è enorme anche il lavoro per risistemarli e mettere a posto c'è l'ambizione sicuramente ci sarebbe l'ambizione per riuscire ad avere quelli di tutta Italia c'è anche in atto un progetto che vedevo un'idea perlomeno di un progetto che è quella di riuscire di recuperare una città per ogni regione che si occupi dei cavalieri conseguentemente riuscire ad avere un insieme di tutti i nomi una rete e un insieme di tutti i nomi dei cavalieri che credo siano attorno a un paio di milioni credo come in termini di numeri un po' l'applauso per i nomi dei cavalieri certo quello senz'altro quello senz'altro quello senz'altro procediamo con il programma il coro agli estese intonerà ora la canzone Stellutis Antinis uno di quei canti che riportano alla memoria i dolori e i sacrifici vissuti durante la guerra e allo stesso tempo ci offre parole di pace amore serenità speranza e fede nel futuro coro agli estese Stellutis Antinis segura di un canale di un canale segura di un canale Grazie a tutti. 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 Seguirà poi l'inserimento del primo libro dell'altare dell'Arcide della Chiesella di San Paoletto, che tutti noi possiamo poi seguire. Coro agli estese eseguerà il canto degli italiani di Don Fredo Domenico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.